Sei pronto a scoprire un'avventura davvero nuova e incredibile? Con Impara con Pokémon Avventura tra i tasti dovrai scrivere sulla tastiera con velocità e precisione per catturare i tuoi Pokémon preferiti! Ne troverai più di 400! Scopri tanti modi divertenti per fare pratica e provare a diventare velocissimo a scrivere! Impara con Pokémon Avventura tra i tasti include una tastiera Bluetooth! Provalo sui grandi schermi del nuovo 3DS XL!